Sono lì Vabbè difficilissimo ma che sei pazzo Steph Mi sembra che ci siamo Forse ne metterai anche un altro Pronta? No Allora prima io e poi tu Parco ci sono tre team Che è balanced Andiamo a parco dai Abbastanza balanced Spiagge era troppo tardi ormai Che belline le bollicine guarda E infatti non vado a disbloccarle Ma troppo cancama Molto più in alto Molto più in alto Che cavo dove stai guardando I piccioni guardi Voglio andare nel lago Volevi contare gli alberi Sì E qual è il vostro gioco preferito? Beh sinceramente al momento non saprei Perché tempo fa sono stati World of Warcraft e League of Legends Ma non ci giochiamo più al momento Quindi direi che non potrei dire Quei due giochi Al momento non lo so È un periodo di scarsità Di uscita dei videogiochi Cioè cosa c'è? Fortnite è uscito Sea of Thieves Che è stata una delusione Già E boh Avrei voluto dirvi Sea of Thieves Purtroppo non ve lo potrò dire No ma quello guarda Sarei stato felice di dirvi Non ho avuto neanche il coraggio Di fare il rimborso Da quanto ci sono rimasta male Ve lo dico eh Delusione Lo aspettavo da tre anni Seguivo gli aggiornamenti Ho fatto un sacco di robe Schifo Allora ne vedo Che rarità è la skin nuova Sinceramente Mi sa che da lì non te lo dice Che rarità è vero? Dal pacchetto No non te lo dici Non te lo dici Quindi non ne abbiamo idea Immagino comunque o verde o blu Perché essendo così economica Poi ripeto ragazzi È molto carina Quindi contando che di solito Le skin costano un pochino Costano almeno sui 10 euro Penso di valore Ma non ho fatto il Diciamo il cambio Per capirlo con certezza Però è molto carina E ci guadagnate anche comunque 600 back Che non è male Vi potete comprare un ballo Un deltaplano Un'altra cosa Quello che vuole Ok Ok Vediamo un pochettino Allora ho visto due persone Stef Nella parte iniziale Della città Cioè quella Da cui siamo scesi Quindi tipo La casa moderna Ti posso fare una domanda? Dimmi Secondo te Perché il gioco è antipompa Per me oggi? È anche per me Hanno tolto il tutto del pompa A 5 game Non ne ho mai trovato uno all'inizio Una roba del genere Io ho una mitraglietta Che ti devo dire Stef? Anch'io sono in difficoltà Vabbè Vabbè Sfortuna Cioè poi Forse è solo il problema Le pompa C'ho un minigun Uh Bello 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 Questo è il mio game Questo è il mio game Stef muore Ti devo dire una cosa Ti serve un M16 blu Al momento mi serve anche il pane Il pompa non ce l'ho Tanto so che vuoi dire Quello il pompa non ce l'ho Non ce l'ho neanche per me Ti serve un M16 blu Te lo tengo se lo vuoi Sì assolutamente sì Perché io ho appena trovato L'occhio In questo momento Ho un pompa bianca Appena trovata Avevo soltanto il minigun Capisci Non mi avevi detto Che stavi facendo così schifo Ti ho detto che ero povero Ma non così tanto 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 Cioè povertà è povertà Stef Lo so Allora Queste case saranno luttate Allora questa prendo Provo a farmale Li sento sparare abbastanza lontani Quindi Vediamo se trovo qualche fucile A pompa al volo Ok Ok no Casa vuota Fast 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 Cioè fai raggiungermi Devo fare la strada Per donarti un'arma Ho fatto al volo Sta casa e niente Era bruttissima Quella l'ho fatta io L'hai fatta tu Infatti ho visto che avevo Una parete spaccata Quindi ti raggiungo E direi di andarli Anche a uccidere Dovremmo mettere Che si può billare Un po' più comodo Sopra i tetti Comunque Ho notato Alla fine bisogna fare Piattaforme per billare Stavo controllando Loro Ho notato anch'io Hai billato Sì Dov'è Stef? Qua Eccolo qua Allora tieni Grazie E basta Sono povera Per il resto Dai Stef Che non ho voglia Di risalire Dovamo vedere Un po' dove sono Mi spiace Perché li ho sentiti Sparare Quindi Stanno combattendo Stef Sì abbiamo bisogno Di uccidere qualcuno Eh ma Ah visti 105 120 Ok si li ho visti Hit 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 a terra Era pieno Di shield Dove sarà L'altro Lo vedi Sta arrivando Correndo Ok aspetta Colpito Colpito Eh build Un botto Colpito It's not a problem Vai Fere Uh vai Uccisi Credo No E fannacchilato l'altro Scusa Non l'ho fatto apposta Eh però c'è tutto Sto gazebo Già Guarda ci andrei In faccia Che ho una mitraglietta Perché avessi il pompa Sarei un po' più sicura di me Ma così no Vabbè la uso lo stesso Eh Andato Ok Ti ho usato come è Loot Sì ho notato Stef Grazie Sei sempre molto Quando vuoi Basta chiedere E invece dici blu Un fucile a pompa Prenditelo No no prenditelo Sicura Sì 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 Ok Giusto lo shieldino Per tornare a 50 Ok Allora siamo dentro la zona Sì perfetto Molto bene E mi sa che rimangono Queste due case Da lottare Perché a me è sembrato Che loro non li abbiano lottate 320 di legna Abbastanza bene Io malissimo legna Pi 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 Lo so che volevate giocare con noi Ragazzi il problema è che Dobbiamo pensare Agli altri 6.000 persone Che guardano la live Che non stanno giocando con noi Se devono vedere Soltanto dei match Dove ci arrivano 40-50 player ad osso Che ci amattano Non è molto divertente Né divertente Né per voi Né per noi Perché anche noi giochiamo male Non ci divertiamo E non vi divertite neanche voi Esatto Piccola interruzione Poi il game continua Ferretti Sei mi chiesta cosa succede Se ti lanci da in altissimo Su delle ruote Rimbalzi o muori? Eh Bella domanda Steph Non lo so Cegno di fronte a me Lontanissime Io inizio ad andare verso l'alto Vai 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 Secondo te Devi fare la scommessa Ferretti Prima che mi lancio Devi già dire Secondo te cosa succede Secondo me muori A parte che Steph potrebbe mancarle Muori perché non riesci a centrarle Era quello che stavo per dire Ma dai No non posso filare Ferretti Non si può Ok Allora Ma dove sono? Le vedi? Aspetta Sono lì Vabbè è difficilissimo Ma che sei pazzo Ok Mi sembra che ci siamo Forse ne metterai anche un altro Pronta? No Allora prima io Poi tu Così se failo io Magari ce la fai tu Vado No no Steph Se faila uno dei due Finisce tutto eh Torna indietro Torna indietro Torna indietro Ok Perché mi sono accorto Che così era troppo Ok Vai tu Ho paura Vado Vai Geronimo Hai visto? Hai visto? Ho rimbalzato Ma sono morto lo stesso Ha fatto boom L'ha sentito chiunque Allora Allora io ti ho visto dall'alto Ok Dall'alto ho visto che tu li hai centrati in pieno Ferretti hai sentito il boom E io ho rimbalzato Però ti fa morire lo stesso No Incredibile Io mi visito il distributore Steph Non si sa mai che ne facciamo tre Mi faccio anche la vista Ma è il primo che fai Ma non ci devi neanche sperare Io ogni volta lo faccio Va bene E poi spero Va bene Va bene Cavoli tuoi Cavoli tuoi Per chi chiede da quanto ci siamo Siamo da un'oretta Te lo dico A chi ora nel caso da Monilla Live Penso che nel caso sarà all'incirca questo orario Non ne sono sicuro Intorno alle 18 18.30 Potrebbe essere anche nel primo pomeriggio Boh Stiamo cercando di capire qual è l'orario che preferite Sinceramente Quindi potrebbe essere o alle 14.15 Oppure intorno alle 18.19 Esatto Dietro di noi Visto Io ho pochi matt Intanto una volta Uno ha la sinistra che ci corre Ci sta correndo alla sinistra Ok L'altro Non ho visione quindi mi sposto Sì Ok l'altro è rimasto lì Sì Aspetta che non mi voglio esporre troppo Ok sei tu che mi stavi correndo a fan Come hai fatto scendere un colpo Eh vabbè ma che vi Allora Che ci venite addosso a fa Se poi vi fortificate Dovete fare la torre di Babele Scusa un attimo Headshot 66 di shield Se gli fai il canestro Quello è fregato Ci sto provando A terra Manca l'altro Ok bravissima Non potete rushare Puoi fermarvi a metà però Metto pressure Bucando Ok ecco l'amico Colpito 35 di shield tolti Caduto a terra Ce la fai? Ho rotto le scatole Davvero sei qui sotto Ne esci fuori? Morti Era sotto terra Ma dimmi te Allora vado a vedere l'altro Allora Questo lo voglio assolutamente Dove è morto? Qui dentro? Sì è lì sopra Ok Non c'era bisogno di fare Tutti le scale Uh dei belli shield Colpi Poi dividiamo C'è un pompa blu Lo vuoi? Ehm Ce l'ho già Allora me lo prendo io Mi tiro sto shieldone Se vuoi prendete Al volo uno shieldino Per tirartelo Che non sei totalmente A 50 Dov'è? 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 Eccolo qui Non lo vedo Sono 7 E poi li tengo io Ok Allora No ma li posso ottenere se vuoi No no tranquilla Non sono messa così Quanti colpi hai delle messe di cifra? 240 Ok butta 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 Che ne servono? No 30 Ops Perché se premo dividi Mi parte il coso Ma che ne so C'è problemi strani Aspetta quali sono questi qua? Ehm Questi Tieni Grazie Tieni Ok andiamo? Vado Quante kill c'hai? 3 Maledetta Tu? Tieni una Un povero The power of rock staff I'm the queen Ma mori Perché tu non hai la chitarra Se tu avessi la chitarra nelle spalle Saremmo abbinati Quindi faremo tante kill Occhio che non abbiamo troppi mazze Parlando di cose abbastanza più serie Fammi farmare un po' Fammi farmare un po' Allora Player 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 No Non ne vedo Perfetto Zona nuova Che ci è andata abbastanza a fortuna Perché siamo comunque stradentro 16 vivi Equipaggiamento Senza dubbio bruttino Ah io non mi lamento più di tanto Comunque lo scar Un pompa blu E una mitraglietta Preferirei avere qualcosa da lontano O qualcosa per distruggere le strutture Però tu te la stai cavando con il L'hai buttato Che cosa Sì Stavo per dire Lui se la sta cavando Perché qua così Lui distrugge Io colpisco Guarda Steph Il secondo distributore È lui È il game È il game Steph Facciamo anche il terzo Non ce ne sono altri Non ce ne sono altri in zona Facciamo il terzo Due su tre ne fai Due su tre Per chi non lo sa c'è la missione del passo battaglia dove devi andare dentro tre distributori Nello stesso match Però aspetta io nell'altro non ci sono andata dentro Sono andata nel tetto Spero Io credo che devi andare dentro No perché dice visita Quindi secondo me ci devi passare vicino Eh devi andare a vedere che vendono dentro Fere No come i camioncini che ci passi vicino E quindi diceva visita tre distributori Player alla nostra sinistra 195 Ne ho visto due saltellare Li vedi? Sì Ok E comunque siamo a due su tre Mi stavo gasando tutto lì Per ora non ci hanno visto Ci stanno a prevedere Abbassati Siamo un po' troppo al centro della zona Dovremo posizionarci meglio dopo sto fight Sì però Sai Un po' di loot in più Farebbe comodo No certo Porca miseria Che paura A uno gli ho tolto 70 35 di shield Ok Ok è la sinistra Mi ha fatto la tecnica del doppio pomp E vabbè No tirami su L'ho visto E io povera Vabbè ho il medikit Il medikit Sì beh c'è neanche un altro qua per terra Mi sono gasata troppo Mazze e colpi decisamente meglio di prima Quindi è stato comunque utile ammazzarli Erano abbastanza bravini E di sicuro se hanno il pompa nuova No erano bravini Quello che mi ha fatto proprio la tecnica del doppio pompa L'ho visto switchare velocemente È stato bravo Bravino Sei giocata bene Ci sta Ci sta Ci sta Siamo solo in cinque ste Solo? Com'è possibile? La zona è ancora enorme Quando devo fare le cose di fretta Ok mi sono bevuta uno shield grande Sì infatti te l'ho lasciato Ce n'è solo uno vero? Sì Ok Allora Sono un po' confusa Ho notato Cioè Cinque Davvero? Eh siamo a 6 kill Ci sta Sì ma Bah Non potrò fare mai il mio terzo distributore A questo punto Perché chiude a parco Ti aveva detto Eh lo so Non avevo controllato bene Quanto era grande la zona Mi pensavo di essere ancora Tipo nel mid game Capisci? Mia mente era ancora Nel mid game Allora 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 Andiamo di qua Io mangio le crepes Buone anche le crepes Mi piacciono Ci prendiamo le crepes E dove? Boh È un posto che le fa buone Crepes dolci o crepes salate? Io le adoro tutte e due Bella domanda Vediamo cosa rispondono Vabbè era anche per chi la stava mangiando Volevo sapere Magari è la sia dolce che salata Perché di solito le ordino Poi entrambe dolce Cioè salato e poi dolce Perché mi piacciono troppo Hai spazio per quel medikit? Sì Il cecchino lo prendo io? Sì Ok Io non ho niente da distanza Quindi ne ho approfittato Dove sei mio caro Steph? Sei salito su? Sì Ok Ok Siamo in C Sono abbastanza concentrato Probabilmente Perché se ce ne hai capito Dove sono gli ultimi Ho uno 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 Ho due uno Oltre noi ovviamente Io ormai mi tolgo il dubbio Scusami Si sa mai Sì no Sono d'accordo Alla fine per Picrizia Rischi di averceli sopra E perdi il game Molto molto semplice Mamma mia Lo scattino Di nuovo? Sì sì Ogni tanto arriva Infatti mi sento Meno lucido Quando devo fare Il rush su un player E saltare e sparare Eh vabbè Perché mi sento infastidito Comunque vedi L'altra volta Quando abbiamo Ecco dov'era cosa Del non ballare Di parco pacifico L'ho trovata adesso Eh vabbè Eh vabbè Ti dicevo Mi hai costruito in faccia L'altra volta Quando io ho fatto Quel fight a pompa Che ti ho detto Che mi ha dato Un botto a scatti Te l'avevo detto Che stavo iniziando Ad avere problemi Vabbè Non ce la faccio Steph Mamma mia Che brutta E' questa scala che hai fatto Allora In discord Davamo il codice Sì ma abbiamo smesso Di fare i match privati Per vari casini Nel caso Tornate un pochino indietro Nella live Ed hai spiegato tutto Perché non Rispiegare tutto Per ogni 10 minuti 100 volte è un casino Io mi faccio una mini fortezza Quindi questo qua E' un match normale Che stiamo cercando Di vincerci Aspetta Voglio vedere Prima dove chiude la zona E poi nel caso Mi faccio una mini fortezza Ok Stai controllando tutto bene? Sì Ok Tu controlli quella parte E controllo questa? Sì sì Però ora sto cercando I tre player rimasti Teoricamente siamo 2v2 Ho chiuso a parco Centrale Totalmente E infatti io temo Che gli ultimi Che siano nascosti a parco Però ci avrebbero provato A sparare Abbiamo fatto un casino No ma che si sono nascosti dopo? Eh però guarda che C'eravamo fino a due secondi fa Steph Cioè secondo me Avrebbero provato a ucciderci Davvero non vediamo niente? No Hey Comunque Non ti capita Sto coincidenza Parti nella città E ci devi rimanere Fino alla fine Sì 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 Saremo rimasti Fino all'inizio Che poi più o meno è quello che abbiamo fatto Perché siamo andati un po' avanti Sì sì Siamo sempre tornati indietro Era destino Quindi eravamo sempre qui in zona Non ci siamo allontanati troppo Cinque vivi Cinque vivi E rimangono tali da un bel po' Il che indica due team Abbastanza nascosti Eravamo stantini Poi sono crollati di botto Sì Poi fermi a cinque Uh Bugen ha eliminato con fucile Bugen ha eliminato con fucile Fere il tipo in solo Se ne è fatto due Quindi è forte Aiuto Mi sto facendo addosso Steph Questo è di quelli che Non sai dove ti cecchina Accidenti eh Se li hai fatti entrambi a pompa Comunque c'è un problema Io non ho sentito spari Dov'erano? Molto lontani a quanto pare Io me ne sto qua Mi faccio la mia fortezzina qui sopra E ciao a tutti Ciao Sono abbastanza centrale Questo se non mi uccide E io non voglio morire alla fine Soprattutto due contro uno Sarebbe brutto Ok mi sono messa Abbastanza in altino Sono un po' fuori dalla zona Infatti non so Perché non me ne sono accorta prima Però voglio vedere Da qualche parte dovrei sbucare Probabilmente da fuori dalla zona Ah Non capisco dov'è Nenche io Minimamente Perché non avevano sentito gli spari Quindi era lontano Però poi Aspetta scendo da qui Allora un attimo Che mi voglio sistemare questi così Non mi venire troppo attaccato No no mi sto trovando La mia zonettina Mi metto tipo qua Ok che sono abbastanza vicina Però non è che ci posso fare molto Il posto questo Non è poi così grande Ok non esagero Se la sta giocando Strastelt Secondo me infatti ha il cechino E vuole provare A prendere vantaggio Con quello Oh Ho sbagliato Boh Non so Steph A me preoccupa il fatto Che abbia Eccolo Cechino Come pensavo 105-120 il colpo Però non lo vedo Ok Io t'avevo detto Questo non è arrivato Con il cechino Sì 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 Era la cosa più probabile Perché è nascosto Non sta billando È nascosto Vabbè dai Se ci concentriamo Comunque ce la facciamo Non voglio dire mai Visto Dietro un albero Tra 105-120 Dove c'è la montagna Proprio a limite Della zona L'ho sfiorato Non lo vedo Da qui Steph Cambia posizione Nel caso Ha provato a cerchinarmi Missili Dovrei andare più in alto Ma ho finito i mazzi Ok ho capito È molto lontano Aspetta che scendo Ok Eh continuo Boom L'hai sentito? L'hai sentito Sto headshot Caro? Chi è che voleva C'è chi l'ora è qui? Io mi stavo posizionando Cioè ho anche finito i mazzi Però poi mi subito Ho vinto Che reale Yeah Bravi Bello dai Primo game da soli vinto Oggi Oggi andiamo bene Bello bello Stra bella La giochinata Molto contenta È stato un game strano Dall'inizio alla fine Stranissimo Davvero davvero stranissimo Però Ci sta Sì 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 Bravi Dall'inizio alla fine